Ciao a tutti, il mio nome è Gwenda. Prima di conoscere Giusea e Anna Maria, io vivevo una vita anche monotona o comunque ordinaria, dove c'era il lavoro, lo studio, è poco tempo per me. Ero completamente assorbita, ma soprattutto vivevo nell'eseguire dei doveri, quello che andava fatto, fondamentalmente quello che andava fatto e lo facevo, finché mi rendevo conto che comunque non aveva tanto senso, non aveva tanto senso poi per me, perché non trovavo entusiasmo, non trovavo gioia. A un certo punto io ho incontrato in internet Anna Maria, il sito di Anna Maria, e ho comprato così distinto, era estate, mi ricordo che era agosto del 2012, ho comprato un suo corso, Il Potere Sei Tu. E da lì ho iniziato a vedere che, caspita, c'erano delle cose molto interessanti che mi aprivano completamente nuove prospettive. E così che poi più tardi mi sono iscritta all'Energetic Club. E mese dopo mese io ero avvocato, cioè sono ancora avvocato, ma mi sono cancellata dall'albo. Perché? Perché... e quindi seguivo le loro sessioni inizialmente in studio, andavano via tutti i colleghi e mi mettevo lì e dalle nove di sera seguivo regolarmente le sessioni. Ora che sono passati tanti anni e man mano, man mano, man mano, tutta la vita riuscivo a vederla e a leggerla in maniera completamente diversa. Quindi nozioni teoriche molto importanti e le trasformazioni, delle riprogrammazioni veramente efficaci. Veramente efficaci, tant'è che io da allora ad oggi posso dirvi di aver trasformato completamente la mia vita. In più vivevo allora sempre col senso del dopo. Quando sarai? Quando avrai finito gli esami? Quando avrai finito l'università? Quando avrai fatto la pratica? Quando sarai diventata avvocata? Tutto quando, quando. Quindi tutto completamente spostato sul dopo. E io mi sono persa tutto l'oggi. Tutto l'oggi. Ecco, grazie a questa, grazie alle sessioni di Anna Maria, di Giusea, alle lezioni dell'Energeti Club, io ho completamente modificato il mio approccio alla vita. E questo è, sono infinitamente grata. Quindi io raccomando col cuore di fare un'azione, una qualsiasi azione che vi possa portare in una condizione, tanto peggio di così non potete stare. Quindi veramente chi mi ascolta in questo momento, che non è un caso, fate un'azione. Se non altro saprete delle informazioni differenti, vedrete il mondo in una maniera diversa. E poi tutto quello che sarà, sarà bellissimo. Io ve lo auguro come lo è stato per me, soprattutto in quest'ultimo anno.